Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura parliamo dell'insediamento del nuovo questore di Pescara. Si tratta di Francesco Guglielmo Misiti, 60 anni, originario della Sicilia, in particolare di Agrigento. Prende il posto di Paolo Passamonti che dal 31 dicembre scorso è in pensione. Conosciamo il nuovo questore nel servizio di Paolo Renzetti. E Francesco Guglielmo Misiti, il nuovo questore di Pescara, da oggi prende il posto di Paolo Passamonti. Si è andato in pensione il 31 dicembre scorso. Agrigentino di nascita, 60 anni, il neoquestore del capoluogo adriatico arriva da Massacarrara. Nel corso della sua carriera Misiti ha diretto importanti uffici investigativi delle questure di Trapani e di Palermo, tra i quali la sezione antimafia della questura palermitana, dove ha contribuito in maniera determinante alla cattura di numerosi boss mafiosi. Innanzitutto il sistema sicurezza. Il sistema sicurezza, come avete visto negli ultimi tempi, è stato rafforzato moltissimo. Vuoi per i profili antiterrorismo, vuoi per i profili anche di tranquillizzare il cittadino quotidianamente. E' chiaro che Pescara è una grossa realtà, risente della vicina Albania, quindi anche da lì dobbiamo verificare un attimino l'andamento del fenomeno di ingresso dei cittadini. Dobbiamo anche verificare eventuali aspetti criminogeni che riguardano sia i nomadi, perché la maggior parte dei reati predatori risente di questi insediamenti di Rom, sia i profili di più ampia portata, che su quello chiaramente avrò modo di confondarmi col capo della mobile, e profili criminali di più ampia portata, che non siano i semplici reati predatori. Per quanto riguarda i profili dell'immigrazione, è sotto gli occhi di tutti il sistema di sicurezza messo in campo a capodanno ultimo, che ha impegnato molta della polizia, sia come forza di polizia che con carabinieri e guardia di finanza. Va da sé che il fenomeno dell'immigrazione va tensionato a tutti i livelli, il fenomeno dell'immigrazione clandestina va visto anche sotto il profilo antiterrorismo. E' chiaro che è una sfida grossa a livello nazionale, che chiaramente poi si riflette a livello provinciale. I carabinieri di Castel di Sangro hanno avviato un'inchiesta sul feto abbandonato la sera di Capodanno in una terrazza di un albergo, sempre della stessa cittadina in provincia dell'Aquila, un albergo trasformato in un centro di accoglienza per rifugiati. Ad abbandonarlo sarebbe stata una ragazza nigeriana di 20 anni, ospite dell'albergo, la quale dopo aver abortito avrebbe nascosto il feto di una busta e l'avrebbe lasciato in un angolo della terrazza. La ragazza è arrivata in Italia a settembre scorso, con altri profughi a bordo di un barcone e da alcune indiscrezioni potrebbe essere stata indotta da terze persone ad abortire. I sanitari del 118 hanno trovato la ragazza sofferente a letto sul balcone, un sacchetto con il feto di 18 settimane, con ancora il cordone ombelicale attaccato. La donna è stata trasferita all'ospedale di Sulmona intorno alle 22.30 e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Comunque riuscito, sono stati gli stessi operatori del 118 a informare i carabinieri. I militari dovranno ora capire se la ragazza ha avuto un aborto spontaneo o se è stata aiutata da qualcun altro a farlo con l'intenzione di nascondere il feto. Non c'è né allarme di contagio per altre persone né necessità di profilassi per la meningite preomococcica che ha colpito l'uomo di 84 anni ricoverato all'ospedale di Sulmona dal 28 dicembre scorso. Né ci sono collegamenti con i casi registrati in Toscana. Lo precisa la direzione della ASL1 al fine di prevenire e scongiurare allarmismi e infondate preoccupazioni. Il tipo di meningite di cui è affetto il paziente, dichiarano i medici che lo assistono, non richiede né profilassi antibiotica né vaccinazione proprio perché non c'è pericolo di diffusione. L'uomo, come confermato dai riscontri di laboratorio, è affetto da una grave infezione alle meningi. Attualmente è in prognosi riservata, in pericolo di vita, e viene trattato con tutte le procedure di sostegno previste e con la relativa terapia farmacologica. E ora cambiamo decisamente pagina in attesa di essere trasferito in carcere di Pescara Sandro Boiocchi accusato di omicidio volontario per aver iniettato 15 fiale di eparina nel corpo della madre la mattina di Natale. Per lui ci potrebbe essere anche una perizia psichiatrica. Il legale dell'uomo, Pasqualino Paolini, ha parlato di un gesto fatto da un disperato, il servizio di Alfredo Primante. Potrebbe essere sottoposto a perizia psichiatrica Sandro Boiocchi, 51 anni, che la mattina di Natale ha iniettato nel corpo della madre, 74enne, Lucia Zafenza, 15 fiale di eparina provocandone la morte. Pasqualino Paolini, legale dell'uomo che al momento si trova ancora ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Pescara, si prepara anche a chiedere che Boiocchi venga trasferito in una struttura in grado di recuperarlo, soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo che il GIP del Tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, a seguito dell'interrogatorio di garanzia in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere, ne ha disposto la custodia cautelare nel carcere di San Donato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dall'avvelenamento. Boiocchi, qualche ora prima dell'interrogatorio di garanzia, aveva confessato il delitto della madre, gravemente malata di Alzheimer, al PM titolare dell'indagine Anna Rita Mantini. Un dramma della disperazione, quello che è emerso dal racconto dell'uomo e dalla ricostruzione fatta dai carabinieri. Boiocchi, infatti, è vittima di un forte stato depressivo anche a seguito della perdita del lavoro come commesso in un supermarket. Il giorno di Natale, dopo aver iniettato le dosi letali nel ventre della madre, si è allontanato da casa con la macchina vagando per due giorni in città per poi essere ritrovato il 27 in stato di incoscienza sulla banchina sud del porto di Pescara dove aveva anche tentato il suicidio. A bordo dell'auto una tannica di benzina con cui avrebbe voluto dare fuoco a casa, diversi farmaci che ha assunto per farla finita e biglietti di scuse ai familiari per il gesto compiuto. Un giallo risolto in maniera casuale. Della morte della donna, infatti, si è accorto il fratello dell'assassino solo nella tarda serata del 25 e in un primo momento nessuno, nemmeno il medico che ha redatto il certificato di morte per cause naturali, si è accorto di nulla. Poi, il 27, la denuncia del fratello per la sparizione di Sandro che non ha partecipato ai funerali svolti regolarmente. A questo punto c'è stato l'intervento dei carabinieri che, dopo aver intracciato Buoiochi grazie alla segnalazione della polizia di frontiera, hanno bloccato la tumulazione della donna. La successiva autopsia ha confermato quanto sospettato e successivamente confessato da Sandro Buoiochi, nel frattempo ricoverato in ospedale. Un dramma legato anche al degrado sociale. Infatti, nell'appartamento di via Cristoforo Colombo, a due passi dal porto, i due fratelli e la mamma vivevano in condizioni di forte disagio, di cui probabilmente molti erano a conoscenza, in primis gli altri due figli della donna e poi i vicini di casa, ma che non era stato segnalato ai servizi sociali del comune. Da qui l'appello dell'assessore al sociale di Pescara, Antonello Allegrino, a rivolgersi agli assistenti sociali per evitare il ripetersi di simili tragedie. Ancora alla cronaca, ci spostiamo nell'Aquilano, arrestati due uomini che preparavano e spacciavano droga all'interno di una casa inagibile dal terremoto del 2009 nella frazione aquilana di Paganica. Giorgio Alessandri. Due uomini, un 50enne ed un 43enne, che producevano e confezionavano droga in un'abitazione inagibile a causa del terremoto nella frazione aquilana di Paganica, sono stati arrestati al termine di un inseguimento effettuato dagli uomini della squadra volante. I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati intercettati a bordo di una utilitaria. Alla vista della volante, si sono dati alla fuga durante la quale il passeggero ha gettato dal finestrino degli involucri di cellofan ed una scatoletta verde che si è poi scoperto contenere sette involucri di cocaina per un peso di 4 grammi. Una volta bloccata l'auto, hanno provato a scappare a piedi, ma sono stati fermati dagli agenti, nonostante le lesioni riportate a seguito di una breve colluttazione. Sul posto sono giunte anche altre pattuglie in aiuto. I due uomini sono stati trovati anche in possesso di denaro contante per un valore complessivo di 1.875 euro provento dell'attività illecita. La perquisizione domiciliare, effettuata nell'abitazione di residenza di uno dei due arrestati, ha permesso di rinvenire materiale per la fabbricazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente. In particolare, un bilancino di precisione digitale, due tazzine di porcellana con all'interno della polvere bianca, successivamente analizzata ed identificata per LSD, varie involucri di cellofan pronti per il confezionamento, un pezzo di sostanza stupefacente, dalle caratteristiche dell'ashish per un peso lordo di circa 11 grammi ed una dose di marijuana. Su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati portati in carcere in attesa dell'udienza di convalida. E' sempre viva la polemica circa l'aumento dei pedaggi autostradali. Autostrada dei parchi, dopo gli attacchi da parte delle associazioni di categoria e dei consumatori, si difende parlando di polemiche strumentali e abitudinarie. Continua la polemica sugli aumenti tariffari nelle autostrade della nostra regione, in particolare sulla A24 e sulla A25 gestite da Autostrada dei parchi. La posizione delle associazioni di categoria resta fortemente critica con la Confartigianato Abruzzo, che definisce inaccettabile l'aumento tariffario. I pedaggi di A24 e da A25, sottolineano il direttore dell'associazione Daniele Giangiulli e il presidente di Confartigianato Trasporti Abruzzo, Gabriele Sillari, negli ultimi 13 anni sono aumentati del 187%. Tariffe spropositate, soprattutto se si considera, scrive l'associazione, che si tratta di autostrade vecchie ed insicure. La cosa ancora più assurda, conclude la nota, è che tutto ciò accade nel silenzio assordante della giunta regionale del presidente Luciano D'Alfonso. Non si è fatta attendere la replica di Autostrada dei parchi, che sottolinea come l'aumento maggiore sia di 30 centesimi e riguardi le tratte più lunghe, in particolare la Roma-Chieti-Pescara, che passa da 19,10 euro a 19,40 euro. Nell'ario intorno all'Aquila, continua la nota del gestore autostradare, il massimo dell'incremento pari a 10 centesimi e per il tratto l'Aquila-Est-Avezzano, mentre non ci sarà nessun aumento nella tratta l'Aquila-Ovest-Avezzano, grazie ad un meccanismo di norme che prevede una soglia minima sotto la quale si fa un arrotondamento per difetto dell'aliquota. Anche i pendolari che da Pescara devono raggiungere l'Aquila uscendo a bus, si scrive ancora Autostrada dei parchi, troveranno invariata la tariffa della tratta. Il gestore parla di polemiche strumentali e abitudinarie davanti a incrementi molto contenuti, ricordando ai pendolari che esiste sempre la possibilità di abbattere fino al 20% il costo dell'autostrada per chi possiede un telepass. L'ennesima stangata è servita a danno degli utenti delle autostrade da e per Roma, ma adesso la Regione deve intervenire perché è forte il rischio che l'intero sistema economico regionale perda di competitività. Così il presidente della Fita CNA Abruzzo, Gianluca Carota, bolla il rincaro dell'1,62% che a partire da ieri devono sopportare automobilisti e camionisti che percorrono le autostrade A24 e A25 gestite dalla strada dei parchi SPA in direzione della capitale. Si tratta di un aumento più che doppio rispetto a quello accordato dal governo mediamente per le altre autostrade che è stato dello 0,77% e che è ormai diventato l'appuntamento fisso di ogni capodanno. La giunta regionale presieduta da Luciano D'Alfonso ha disposto un intervento finanziario pari a 400 mila euro a favore delle province per l'attuazione del piano neve 2016-2017 e ne ha previsto la ripartizione al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale. Nel dettaglio sono stati destinati 120 mila euro alla provincia di Chieti 100 mila euro a quella di Teramo 90 mila euro a quelle di Pescara e dell'Aquila. Inoltre alle stesse amministrazioni provinciali la giunta regionale ha concesso un contributo straordinario per l'anno 2016 pari a 100 mila euro al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali dei comprensori sciistici così di seguito ripartito 60 mila euro da suddividere equamente tra le province di Chieti e Pescara per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Passo Lanciano 25 mila euro a favore della provincia dell'Aquila per la viabilità che conduce agli impianti presenti nella stessa provincia e 15 mila euro a favore della provincia di Teramo per la viabilità che conduce agli impianti di Prati di Tivo Infine la giunta regionale ha stabilito che le predette somme saranno erogate alle amministrazioni provinciali con le seguenti modalità il 50% dell'importo complessivo a conclusione degli atti di impegno conseguenti all'adozione della deliberazione e il restante 50% successivamente all'invio al servizio reti ferroviarie viabilità e impianti fissi della rendicontazione delle spese sostenute è arrivata alla fine dell'anno la proroga della commessa IMS per il call center aquilano che gestisce il servizio di assistenza ai cittadini salvi per ora oltre 500 posti di lavoro fine anno con il fiato sospeso per gli oltre 500 lavoratori del call center aquilano che gestisce per conto di Trascom la commessa del servizio agli utenti di IMS E-Nail ed Equitalia commessa scaduta a fine anno di cui fino all'ultimo era incerta la proroga proprio nelle ore in cui a Roma falliva la trattativa tra sindagati ed Almaviva con conseguente licenziamento di 1600 persone sempre dalla capitale è arrivata l'attesa notizia della proroga della commessa Trascom per la gestione del call center IMS hanno tirato un sospiro di sollievo i migliaia di lavoratori impiegati in Italia più di 500 all'Aquila che continueranno a lavorare per altri 6 mesi in attesa del bando per la nuova commessa che ha ribadito la senatrice del PD Stefania Pezzopane dovrà rispettare le norme innovative contenute nel codice degli appalti e la legge di bilancio 2017 si tratta in particolare della clausola sociale e dell'esclusione delle spese per il personale dal massimo ribasso utili per tutelare i livelli occupazionali ma anche la qualità del servizio che si garantisce solo attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite dai lavoratori comprendiamo conclude la senatrice del PD Pezzopane e sosteniamo ogni ragione finalizzata alla trasparenza delle procedure e dalla prevenzione di ogni sospetta forma di corruzione ma conclude non siano i lavoratori a pagare i ritardi errori o presunte illegalità medaglietta ricordo del comune per il primo nato del 2017 all'ospedale Mazzini di Teramo si tratta di Matteo quasi di 4 kg venuto alla luce ieri mattina alle ore 8 e 43 vediamo benvenuto 2017 benvenuti ai suoi neonati l'Abruzzo celebra l'arrivo dei nuovi nati come segno benaugurante Pescara incorona Noemi Teramo celebra Matteo ma il vero primo classificato è Filippo nato all'ospedale di Chieti alle 3.05 del nuovo anno nella mattinata il sindaco Maurizio Brucchi è andato a dare il benvenuto a Matteo nato alle 8 e 45 del primo gennaio e figlio di un assessore del comune di Crognaleto Matteo che è un teramano però ha il papà che è assessore al comune di Crognaleto quindi viene dalla montagna e origini diciamo del nostro entroterra poi ci sono altre due bimbe che sono nate subito dopo Matteo e sono entro una di Castelli e un'altra di Cortino quindi c'è un po' la montagna che si ripopola dopo si dice tanto insomma che c'è questa tendenza ad allontanarsi dalla montagna una bella sempre una bella giornata questa oramai sono più di 8 anni che vengo a salutare il primo nato insomma ogni volta è sempre un piacere dare il benvenuto nella nostra città in questo caso ma al mondo a questi bimbi cercando come dico sempre di svolgere meglio il nostro compito nel far sì che le condizioni che dobbiamo creare io come sindaco di Teramo l'amico Peppino D'Alonzo come sindaco di Crognaleto noi come amministratori cercare di fare il massimo perché poi questi bimbi trovino tutte quelle necessità si possono dare risposta alle loro esigenze da quando nascono fin quando crescono poi vanno a scuola e così via quindi però questo è un impegno che cerchiamo di assolvere sempre con grande determinazione poi qualche volta ci si riesce qualche volta no i commercianti si preparano ai saldi che partiranno il prossimo 5 di gennaio a Pescara per rivitalizzare il centro commerciale naturale e al via un cambio degli orari di apertura dei negozi il servizio di Francesca Romana Testi quasi una famiglia su due il 45% approfitterà dei saldi ma con acquisti mirati un budget che scenderà di circa il 5% rispetto allo scorso anno senza superare in media i 175 euro a famiglia sono queste le stime del Codacons secondo le quali i saldi sono di fatto già partiti in un negozio su tre in tutta Italia e nonostante l'inizio sia previsto nella maggior parte delle regioni per il prossimo 5 gennaio gli esercenti applicano già sconti medi dal 20 al 40% l'anticipo dei saldi purtroppo avviene tutti gli anni che si nascondono in attività promozioni qualcosa di diverso ogni volta e vengono sempre più anticipati il lavoro si ferma molto prima del dovuto la problematica è quella delle date dei saldi che sono troppo anticipate bloccano il lavoro soprattutto per chi come noi è legato a fattori meteorologici tipo la neve che ancora arriva per esempio quest'anno e ci troviamo fra pochi giorni ad affrontare già la problematica di fine stagione quando la stagione ancora non comincia quindi a mio modo di vedere le date sono da posticipare sicuramente almeno a fine gennaio per il Codacon sa la base della mancata ripresa delle vendite l'eccessiva vicinanza tra le festività natalizie e anche l'influenza del commercio online proprio sull'anticipo della data di avvio e sulle difficoltà del commercio in tempo di crisi si snoda l'insoddisfazione dei commercianti di Pescara che se da un lato patiscono la concorrenza dei grandi centri commerciali dall'altra provano a mettere in campo nuove strategie devo dire che fortunatamente anche avendo aperto da poco quindi l'8 di dicembre c'è stato un bel flusso di gente anche sotto le festività anche dovuto al tipo di attività che abbiamo e abbiamo riscontrato un grosso successo soprattutto nel periodo dei festivi e nei giorni successivi ai festivi dove le persone si sono sedute molto volentieri noi abbiamo aperto questa enoteca qua in bar proprio per abbracciare la più alta percentuale di persone quindi da una bottiglia in vendita un pacco natalizio i famosi cesti di Natale fino alla somministrazione di bicchieri quindi fare anche da web in bar uno stuzzichino e ampliando questa offerta naturalmente abbiamo lavorato lavoriamo bene noi cerchiamo sempre di trasmettere questo affetto nei loro confronti sempre con la nostra passione e nella ricerca del nostro cibo è il nostro cibo che si basa esclusivamente sulla tradizione che soltanto con la conoscenza delle nostre tradizioni possiamo dar valore ai prodotti della nostra terra è stata sottoscritta la convenzione tra l'agenzia sanitaria regionale e il dipartimento di medicina clinica e sanità pubblica dell'Università dell'Aquila per la realizzazione di un progetto di studio tra i primi in Italia che punta alla creazione di un sistema di sorveglianza per il monitoraggio degli effetti sulla salute delle popolazioni colpite da calamità naturali la comunicazione sullo stato di salute e sui rischi per la salute della popolazione esposta a un evento disastroso commenta l'assessore regionale Silvio Paolucci è di importanza strategica per il buon esito dell'assistenza e ora torniamo a Pescara dove oggi ricorre il novantesimo anniversario dell'unificazione di Castellammare Adriatico con Pescara andiamo ad ascoltare il Presidente del Consiglio Comunale Blasioli 90 anni meno di un secolo per la città di D'Annunzio l'anniversario ricorre oggi anche se tante sono state le tappe del suo percorso che si concluse in effetti l'11 gennaio con l'annessione di Castellammare per l'occasione è stato convocato un Consiglio Comunale straordinario un processo che comincia nel 1884 quando per la prima volta D'Annunzio scrive della ipotesi di unire Castellammare e Pescara tra di loro e poi tante altre tappe fino per esempio al 1918 quando i due comuni in maniera separata votano lo stesso ordine del giorno per formare un'unica città che doveva prendere il nome appunto di Aterno e non di Pescara il 6 dicembre del 1926 il capo del governo Benito Mussolini crea in Italia 17 province quindi non è soltanto la nostra provincia di Pescara 17 province e tra queste province naturalmente c'è anche la nuova provincia di Pescara e la città prenderà proprio il nome di Pescara anziché di Aterno in realtà per Castellammare fu una vera e propria annessione ma del resto non poteva non essere così considerato che Pescara aveva una storia molto più lunga invece Castellammare aveva una vita di soltanto 1820 anni nacque infatti nel 1807 quando c'è stata appunto la rivoluzione amministrativa dei francesi del regno delle due Sicilie e Castellammare decide per non pagare i debiti di Pescara di separarsi di fare un comune a sé e in quel momento i comuni presenti sul nostro territorio erano addirittura tre Pescara Castellammare e San Silvestro quindi insomma è una storia molto lunga certo è che il 2 di gennaio è una data importante ma lo è ancora di più quella del 12 di gennaio perché poi il reggio decreto venne pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 e il 12 proprio entrerà in vigore il 12 di gennaio così come in ogni ricorrenza con cifra tonda anche il consiglio comunale di Pescara terrà un consiglio comunale solenne per ricordare l'unificazione della nostra città Apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con questo servizio di Paolo Renzetti che fa il punto in casa Pescara Calcio Almeno quattro rinforzi meglio se cinque Massimo Oddo chiede per il 2017 ai suoi dirigenti un difensore due punte se non tre ed un mediano già al lavoro al poggio degli olivi da qualche giorno Guglielmo Stendardo che ha svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni previste però anche diverse partenze la notizia del giorno è l'arrivo dell'attaccante ex Virtus Lanciano ma di proprietà della Juventus Alberto Cerri partirà il portiere Mirko Pigliacelli che ha qualche richiesta dalla Serie B e dalla Lega Pro in difesa dopo Stendardo si punta ad un altro centrale di esperienza piace Cesare Bovo del Torino le alternative sono quelle di Crainch Mattiello e Andreolli sempre per la difesa sono dati invece in partenza Dario Zuparic Andrea Coda e Davide Vitturini se dovesse andare via a gennaio Francesco Zampano il Pescara avrebbe già trovato il suo sostituto si tratta di Riccardo Fiamozzi anche se però il Genova per il giocatore ex pescarese chiede dei soldi a centrocampo l'obiettivo è un mediano interdittore quello di Marcel Buchel dell'Empoli è un profilo che interessa il Delfino che segue anche Cristian Ledesma per l'attacco ante Budimir è sempre un nome caldo con la Sampdoria l'accordo è sempre più vicino difficilmente raggiungibili per motivi diversi Felipe Avenatti uruguaiano della Ternana e Federico Dionisi in forza al Frosinone in uscita Reimanai che tornerà all'Inter mentre per Jean-Christophe Baybeck si deciderà nelle prossime ore Robert Muric rientrerà invece all'Ajax per fine prestito ma nelle ultime ore è rimbarzata una notizia in casa Bianca Azzurra che riguarderebbe il possibile ritorno in società dell'ex direttore generale Giorgio Repetto che era stato sollevato dall'incarico lo scorso anno per divergenze tecniche c'è stato infatti di recente un riavvicinamento fra il presidente Daniele Sebastiani e l'ex capitano Bianca Azzurro che potrebbe anche precludere ad un suo clamoroso ritorno in società E quello di oggi in effetti è stato il primo giorno di allenamento in Bianca Azzurro per Alberto Cerri tra poco vedremo eccole qui le immagini Cerri ha disputato la prima parte di stagioni in Serie B con la SPAL 15 presenze e un gol lo scorso anno è stato nel Cagliari di Rastelli due stagioni fa ebbe un ottimo impatto a Lanciano con la maglia della Virtus prima di subire un infortunio al ginocchio che lo tolse dal campo per svariati mesi l'attaccante classe 96 arriva in prestito dalla Juventus e sempre con il club bianconero il Pescara sta rifinendo altri due innesti quello di un altro ex lancianese come l'attaccante senegalese Mame Babatiam e il ritorno del centrocampista all'occorrenza anche difensore Rolando mandragora ulteriori sviluppi già da domani quando si riaprirà il mercato e saranno depositati i contratti di Cerri e Stendardo a proposito di Stendardo il difensore eccolo qui nelle nostre immagini si sta allenando regolarmente con il gruppo e si candida ad una maglia da titolare per domenica prossima contro la Fiorentina alla seduta odierna non hanno partecipato Verre e Zuparic fermati dalla febbre lavoro differenziato per Pepe Ghiomber Mitrizza Brugman Campagnaro e Zampano e ora scendiamo in Lega Pro con la riapertura del calcio mercato prevista per domani inizieranno le grandi manovre in casa Teramo quasi una decina di giocatori lasceranno il club bianco-rosso che cerca elementi di spessore da dare al tecnico Zauli per far partire l'operazione Salvezza il servizio Repulisti in vista in casa Teramo sarà un mercato di grossi cambiamenti quello che prenderà il via domani e non può essere altrimenti per una squadra che ha giocato una pessima prima parte di stagione anche più di quello che la classifica dice con un diavolo in piena zona play-out a tre punti dalla salvezza ma anche a tre punti dall'ultimo posto il 2016 si è chiuso come peggio non si poteva il pareggio incassato al 93 col Lumezzane e soprattutto la sconfitta in rimonta a Bassano hanno esasperato il clima quei giocatori che non si sono voluti presentare in sala stampa dello stadio mercante per commentare la sconfitta e le parole al veleno del vicepresidente Cimini verso di loro il DS Bolla ha parlato di necessità di cambiare giocatori che non sono da Teramo con questo clima c'è stato il rompete le righe in attesa di tornare al lavoro la prossima settimana il campionato tornerà il 22 di gennaio quando al Bonolis arriverà la corazzata Pordenone per allora ci sarà un Teramo rinnovato non in panchina però qualcuno aveva ipotizzato che il patron Luciano Campitelli potesse dare il secondo ben servito a Lamberto Zauli 4 pareggi 4 sconfitte e 0 vittorie finora nel suo doppio mandato salvo confermare che invece il Teramo proseguirà con l'ex tecnico del Sant'Arcangelo e con lui saranno condivise le scelte che dovranno ristrutturare la rosa tra i tanti giocatori a rischio c'è anche un fedelissimo di Zauli come Davide Peterman tra le delusioni principali della stagione nello stesso reparto potrebbero lasciare Demetrio Steffè e Danilo Bulevardi ma in quest'ultimo caso visto il buon rendimento offerto non sarebbe una bocciatura semmai un percorso di ascesa professionale in Serie B con la regia del Pescara in difesa i nodi sono Caidi e Sales l'ex Carrarese ha reso molto al di sotto dell'attese Caidi pagherebbe la presenza ma privarsi di un giocatore legato alla piazza e che in questi anni ha dimostrato di essere di notevole affidabilità sembra un azzardo per l'attacco valigie pronte per Luca Forte l'infortunio non pregiudicato la parentesi terramana di Jefferson che potrebbe tornare alla Latina dovesse restare Sanzovini bisognerà prelevare un centravanti capace di giocare in tandem col sindaco e sarà fondamentale non steccare i colpi in entrata in mediana dove servono come il pane esperienza e leadership per invertire la rotta era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per l'attenzione